Musica Elisabetta Gregoraci contro l'ex marito Flavio Briatore per colpa della nuova fidanzata Benedetta Bosi, studentessa di giurisprudenza, 49 anni, più giovane del proprietario del billionaire. La showgirl è a Los Angeles con il figlio Nathan, ma il gossip l'ha raggiunta anche lì via web, prima con le foto esclusive pubblicate da settimana leghi, poi con i commenti dei follower sul suo profilo Instagram. Una fan ha scritto, brava non è il problema di avere un altro rapporto, ma l'età, questo distabilizza. E la Gregoraci risponde tagliente, più che distabilizza, fa rabbrividire. Un altro utente ha commentato, poveraccio si è dato la zappa sui piedi, questa volta davvero scombossolato gli equilibri di età tra uomo e donna. La gente non aspetta altro che fare battute, battutine e battutacce, se ne renderà conto. E la Gregoraci risponde, me lo auguro se ne renda conto, ma non ne sono sicura. C'è anche l'inguaribile e romantica, io tifo per una riconciliazione tra te e Flavio. La risposta? L'emoji della faccia terrorizzata. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.